Lei non ha mai provato l'app Dolce Metà? No! Qualcuno di voi l'ha provata? Io l'ho provata! E com'è andata? Così! Ciao! Ciao! Senti, è la prima volta che ci vediamo, però te lo voglio dire da subito. Io voglio che tra un uomo e una donna ci sia rispetto. Ma anche io! Io sono una brava ragazza, eh? E prima di andare con un uomo ci vuole un sacco di tempo. A me mi danno fastidio quegli uomini che mi portano subito a casa loro. No, 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 ma io non ci ho pensato proprio. Anzi, io non ti porto a casa mia. Ah, perché c'è rispetto? No, c'è sta mia moglie. Infatti ho pensato perché non andiamo in alberga. Ah, ma io non pensavo che tu fossi un tipo d'albergo a ore. No, ma infatti, l'alberga a ore, i due massimi cinque minuti. Andiamo? Ci vediamoci. L'Ote Martino lo lascia a lei perché sarà in un bello momento. Vai bene.